Noi abbiamo il presepe, noi abbiamo l'albero di Natale, a Natale per noi nasce Gesù, non è che sia soltanto il giorno delle compere, cioè non è il giorno del supermercato. A Natale è il momento in cui uno pensa anche alla nascita, pensa, fa con se stesso, fa dei percorsi interni, fa anche una sua analisi personale, a prescindere da quelle che sono le sue religioni, le sue appartenenti. Io sono cattolico, ma un altro può anche avere altre fedi, può pensare ad altro, non credere a nulla, ma magari credere nella vita, immagino. Io sono rispettoso di tutti, dico però il Natale è un momento in Italia, è un momento di grande partecipazione, riflessione, gioia, tranquillità. Io penso e credo che sia il nostro diritto, il nostro dovere, di difendere questo momento, lo difendiamo con serenità, con sorriso, ma lo facciamo, chiari, dritti, su sta roba. Il Natale resta Natale, la Pasqua, le nostre tradizioni, la nostra Befana, mi vuoi togliere l'epifania. Ho capito Halloween, ho avuto vero del brusano, invece.